Si svolgeranno giovedì sera alle 20.30 in contemporanea le gare ad eliminazione diretta delle semipinali del campionato di basket a Serie C Silver. Due le sfide particolarmente attese, la prima a Vieste che vedrà protagonista la formazione di casa contro l'Allianz Udas. I bianco-azzurri allenati da Luigi Marinelli sono reduci dalla vittoria ottenuta in casa al Palla di Leo martedì scorso contro la Libertas Altamura con il ponteggio di 83-79. Una partita in cui la formazione udassina ha dato il meglio di sé, anche se ha avuto un piccolo calo nell'ultima parte di gara consentendo agli ospiti di recuperare e di arrivare fino a meno 6. Per coach Marinelli è importante non perdere la concentrazione e dare il massimo in una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale. L'altra semifinale invece è in programma a Nardò tra la formazione salentina capolista del campionato e la Diamond Foggia. I downi allenati da Cristian Vigilante avevano battuto nei quarti di finale per 75-70 la formazione della Web in Manfredonia. C'era stata qualche preoccupazione durante la partita di martedì scorso per Cristian Vigilante che non si è sentito bene a causa del caldo e della tensione ma che si è ripreso subito. Il coach downo potrà contare su tutti gli effettivi a disposizione per cercare l'impresa.